Nessuna eruzione Novax, nessun blitz del movimento 3V nella scuola Camillo Cromo di Strada Vecchia dell'Istria, ma una questione che riguarda complessivamente 5 genitori, solo uno di questi padre di un bimbo che frequenta l'istituto stesso. All'origine del problema l'impossibilità da questo lunedì di poter consegnare o ritirare i bimbi all'esterno della scuola materna. Il nuovo regolamento comunale prevede di poterlo fare solo all'interno, muniti di green pass o tampone negativo. La famiglia di un bimbo, il cui tampone della mamma scadeva alle 10.30 odierne, si trovava nell'incresciosa situazione, considerata anche la scelta del papà di non vaccinarsi, di non poter ritirare il bimbo all'asilo. Stamani però riferisce l'assessore Brandi, la donna avrebbe preso a male parole gli addetti della scuola che le hanno consigliato di venire a prendere prima il figlio. Da qui la richiesta d'aiuto ad altri genitori che in 5, 3 all'interno, 2 all'esterno, si sono presentati in via dell'Istria. Il papà ha chiesto di poter ritirare il proprio bambino esibendo e leggendo sul posto la certificazione europea Free Pass Comikost. Un altro uomo ha letto ad alta voce l'articolo 28 della Costituzione che attribuisce responsabilità personali anche in ordine penale a chi lede un diritto costituzionale di una persona. Gli operatori, angosciati e in difficoltà di fronte a questa modalità d'azione, hanno chiamato le forze dell'ordine. Qualche minuto più tardi la maestra, uscita nell'atrio, ha detto che il bimbo sarebbe comunque stato consegnato in quel punto, disponibilità rispedita al mittente però dal padre del bimbo. Poi l'arrivo di una donna corpulenta, facente parte del gruppetto, che dopo aver urlato alla bidella, ha aperto la porta propiziando l'ingresso del papà, prima impossibilitato dal posizionamento della bidella stessa che sbarrava l'ingresso con il proprio corpo. Tra i soggetti, nessuna collutazione e nessun rilievo successivo della polizia, stando a quanto riferisce la questura. I genitori dei bimbi si dissociano da qualsiasi collegamento tra i fatti e il blitz in diretta Facebook sul posto del candidato a sindaco del Movimento 3V, Ugo Rossi, liberato un'ora prima dagli arresti domiciliari, ma ancora in stato d'arresto. L'assessore Brandi fa sapere che domani partiranno delle denunce a carico degli intervenuti sul posto. Veramente è un'azione riprovevole, qualcuno può pensarla in vario modo sulla questione dei vaccini o del Green Pass, però nulla deve essere fatto con intimidazione e con violenza e soprattutto mettendo, non dico in pericolo, ma disturbando la vita di chi sta lavorando in quel momento e che si è trovato a dover affrontare una situazione assolutamente imprevedibile che mai dovrebbe capitare, soprattutto in una scuola dell'infanzia, in una vidonide, insomma in una scuola che accoglie bambini così piccoli. Sotto shock una delle due addette del personale ATA che ha chiesto la presenza domani mattina del dirigente scolastico perché impaurita dal tornare al suo posto di lavoro.